Siete venuti insieme nella casa del padre perché la vostra decisione di unire di matrimonio riceva il sigillo e la sua consacrazione davanti al ministro della Chiesa e davanti alle comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo. Ora Cristo vi benedice di rapporto e con il sacramento inuziale perché vi andiate per l'altro con amore e fedele e esaurite e assumiate ai suoi seguimenti i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Michele e Elisa, siete venuti a celebrare il matrimonio in piena libertà, senza alcuna costruzione, consapevoli che significato dalla vostra decisione? Siete disposti nella nuova via del matrimonio ad amarti e onorati in un altro per tutta la vita? Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educare il secondo le leggi di crescita e della sua Chiesa? Se dunque vostre intenzioni di unervi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e la sua Chiesa il vostro consenso. Io mi dico a te, in quanto mi ha scoperto, con la grazia di Cristo, con il momento del presente, la gioia, la salute e l'amato, e chiamato l'amato, 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 l'amato. La salute della malattia, l'amato, 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 l'amato. Il Signore, all'epotente e misericordioso, confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricordi della sua benedizione, l'uomo nonoso separare ciò che Dio diceva. Signore, benedici questi anelli iniziali, gli sposi che li porteranno, custodiscano integra la loro tenenza, rimangano nella tua volontà e nella tua pace e vivano sempre nel reciproco amore. Per Cristo, nostro Signore. Buonanello. Michele, inseri questa medica, che noi nel mio amore non abbiamo pensato per il nome del padre, di questo signore, di questo signore. Grazie a tutti.